Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e iscritti più brutti, bentornati su GIOVISPO Io sono GIOVISPO e questo è il video del contest 200.000 crediti PS3 e PS4 Vi avevo detto che avrei fatto un nuovo contest tanto tempo fa e dunque è arrivato il momento I premi saranno così suddivisi in tre posti Al primo andrà 100.000 crediti, al secondo 75.000 crediti e al terzo 25.000 crediti Tassa EA non coperta, quindi non vi arriveranno netti 25.000 crediti ma sono lordi Le regole sono essere iscritti al canale, mettere mi piace al video, mettere mi piace alla pagina Facebook e commentando, scrivendo, partecipo Però un'altra regola aggiuntiva, per poter essere estratto per il primo premio inserire questo video tra i preferiti, cioè non ci vuole niente, andate su aggiungi a e mettete video preferiti Attenzione che qui sono molto severo per il primo premio e quindi controllerò Se avete dubbi, commentate o contattatemi sulla mia pagina Facebook La estrazione avverrà a raggiungimento dei mille, quindi se volete condividete su Facebook, Google Plus o dove volete voi Questa cosa non è obbligatoria Questo contest è solo per PlayStation 3 e PlayStation 4 Dunque, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Se volete partecipare, partecipate E partecipate numerosi Ciao e al prossimo video Ciao 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 Ciao